televisione ok abbiamo cambiamo ora è acceso ci siamo allora buonasera a tutti grazie per essere presenti per il 35esimo di Zika concludiamo la giornata del 35esimo con questo intervento abbiamo pensato grazie anche alla tradizione di Zika che è sempre fedele ha sempre un occhio di riguardo per il presente di fare un incontro sulla questione israeliana perché purtroppo è una triste realtà ormai da mesi la questione non si concluderà certamente a breve Zika è sempre attenta a quello che succede in concreto abbiamo pensato di affrontare la questione in modo un po' diverso da quello che di solito viene affrontato ponendo un accento sul perché cercando di rispondere a questa domanda sul perché della collaborazione stretta strettissima come cercheremo di dimostrare tra Israele e Italia non è solo una collaborazione di tipo politico ideologico di allenamento banalmente politico ma di trovare le ragioni profonde di questa collaborazione il lavoro è stato svolto da Massimiliano e da me e abbiamo cercato proprio di trovare il nocciolo della questione cioè le ragioni veramente profonde di come mai questa collaborazione è così stretta e facendo questo lavoro ci siamo meravigliati di come le collaborazioni siano così numerose oltre che così strette numerose appunto che per la prima volta dopo anni che facciamo questi incontri è sorta la necessità di accompagnare un incontro non un libro ma un incontro da una brochure che è questa qui è la prima volta che un incontro viene accompagnato da uno scritto di solito è il contrario è uno un incontro è a corredo di un libro è la presentazione di un libro questa volta invece è uno scritto che è a corredo di un incontro perché sono così tante le cose da dire sono così tanti i dettagli da enunciare che vi avremmo tenuti qua per due tre quattro ore non era proprio il caso per cui vi invitiamo poi a a prendere il libretto approfondire a leggerlo perché lì ci sono tutti i dettagli delle collaborazioni tra Italia e Israele i nomi i cognomi tutti i dettagli che troverete sono veramente stupefacenti di come ciao ciao di come sono numerosissime strettissime intensissime da decenni sottolineo questo aspetto perché pare che le collaborazioni siano uscite ora no le collaborazioni sono da trent'anni più che ci sono tra Italia e Israele e quindi nel libretto sono sono più di cinquanta pagine sono dettagliatissime sono numerosissime e quindi ci sembrava opportuno dettagliarle in forma scritta per non tenervi qua eh dei ori quindi ci limiteremo qui a denunciare proprio eh le questioni fondamentali meglio le ragioni per cui esiste questa strettissima collaborazione tra i due paesi però prima di affrontare anche se per gli omicati questa collaborazione è necessario fare eh un percorso seppur breve un percorso storico cioè capire del perché Israele ha avuto un'evoluzione negli ultimi trent'anni che è diventato il primo paese al mondo sottolineo il primo paese al mondo per la ricerca scientifica l'applicazione tecnologica nei più svariati campi sia non solo della ricerca militare ma soprattutto della ricerca digitale digitale la ricerca biometrica e soprattutto come faremo poi la ricerca di tutte le forme della sicurezza è diventato il primo paese al mondo per tutte le applicazioni dei dati biometrici dei dati della sicurezza è diventato il primo paese al mondo per tutta la ricerca di dati biometrici e questo suo sviluppo trentennale più che trentennale ha una ragione storica e precisa quindi prima di affrontare nel dettaglio o meno nel dettaglio sorvolando un po' e rimandandovi al libretto per il dettaglio per le ragioni che vi ho detto prima bisognerà affrontare per forza di cose quelle ragioni storiche che hanno portato Israele a questo livello perché altrimenti non sarebbe comprensibile come mai Israele è arrivato a questo punto storico e non sarebbe comprensibile soprattutto capire perché Israele è denominata la democrazia del Medio Oriente non sarebbe comprensibile perché è accettato da parte del mondo cosiddetto democratico atteggiamenti da parte dello Stato sionista dello Stato israeliano che altrimenti non sarebbero assolutamente tollerati da paesi che si chiamano democratici perché determinati atteggiamenti di Israele quelli che sono sugli occhi amici di tutti vengono ampiamente tollerati e non sarebbero assolutamente tollerati da parte di altri paesi comunemente chiamati democratici beh una ragione c'è e una ragione sarà spiegata fra poco ma è necessario capire le ragioni storiche e sono ragioni precise ecco queste ragioni storiche non vengono mai dettagliate non vengono mai illustrate io penso che invece è necessario fare chiarezza se più brevemente proprio su queste ragioni storiche quindi l'osservazione del modello israeliano ci permette di comprendere il funzionamento e di tranne le debito osservazioni tale da definire Israele la più riuscita sperimentazione e realizzazione di sinergia tra ricerca apparato militare con il civile un prototipo della struttura della società neoliberista Israele ha saputo dare una risposta a una domanda fondamentale che danni il modello neoliberista si pone perché sforzassi tanto per sostituirle privato al pubblico si può invece organizzare e piegare il pubblico affinché faccia agli interessi del privato Israele in questo fa da maestro basta pensare che oggi nello stato sionista non è più il complesso militare industriale a cercare campo fertile per le sue ricerche all'interno dell'università ma sono le stesse accademie a modificare i propri programmi e progetti formativi per rendersi sempre più attraenti per far sì che sia il militare a sceglierli questo è il modello di istruzione che stiamo inseguendo Israele quindi come prototipo sociale e economico da seguire nell'evoluzione del sistema liberale quindi ricostruire rapporti tra Italia e Israele non è solo tracciare un percorso politico tra due entità che data la contiguità mediterranea devono necessariamente confrontarsi ma soprattutto due realtà che seppur necessariamente con pesi diversi devono confrontarsi ma che hanno intrapreso una strada comune ovvero di un rapporto sempre più stretto questo è il punto fondamentale tra ricerca ed apparato industriale e militare e di come questo è il punto centrale l'università sia il perno attorno al quale ruota questo sistema sul suo territorio si sono sviluppati oltre 300 centri di ricerca privati inclusi quelli delle maggiori società internazionali Apple Microsoft Alphabet Amazon Alibaba è il terzo paese del mondo per capacità innovativa vi sono 7000 start up le start up sono le società di primo bio oltre l'8% della popolazione lavora nel settore e-tech che producono il 12% del PIL e quasi la metà dell'export il 4,25% del PIL la quota più alta più alta anche degli Stati Uniti è investito direttamente nella ricerca il segmento dell'innovazione alimenta oltre la metà dell'export sono stati fatti investimenti dell'innovazione per una quota 110 miliardi che supera quanto messo assieme da Francia e da Germania ma nel corneggio di tali risultati il fattore che ha dato il maggior contributo è stato il fattore umano e è il fattore umano dato che non viene mai commentato ma che è stato decisivo è stata la migrazione da tutto il mondo ma nella migrazione da tutto il mondo è stata soprattutto la migrazione da un paese dall'ex Unione Sovietica nei dieci anni dalla caduta del muro è migrato dall'ex Urs un milione di persone il 20% della popolazione dell'allora Israele Praticamente il russo è la terza lingua dopo l'ebraico e l'arabo è diventato la terza lingua di Israele L'immigrazione dell'Urs negli anni 90 ha cambiato totalmente la composizione sociale del paese il fenomeno è stato trascurato completamente trascurato non commentato ma è stato assolutamente decisivo nel cambiamento totale della composizione sociale di Israele perché è stato decisivo è stato decisivo perché la maggioranza degli immigrati dell'ex Unione Sovietica aveva completato 12 anni di istruzione ed uno su cinque aveva terminato un ciclo di studi dei 16 anni quindi era in possesso di un diploma di educazione superiore di laura primaria o secondaria pensate che sono entrati qualcosa come 110.000 ingegneri cioè una quota superiore di ben tre volte quelli che erano gli ingegneri attualmente allora presenti in Israele sono stati accolti in Israele con l'immigrazione dell'ex Urs una quota pari a 16.000 scienziati quindi Israele si è trovato in quel periodo a balzare al primo posto mondiale per un numero per una quota di istruzione pari a 9,2% del PIL cioè si è trovato il primo paese al mondo con una quota di istruzione superiore agli altri praticamente il doppio di quanto era la quota europea contemporaneamente questo è il dato decisivo e qui vendo compagno la tua giusta osservazione parimenti la produzione militare la ricerca militare è andata di pari passo con la quota di istruzione perché è passata al massimo livello infatti è balzata al 75% del totale prodotto così come è balzata anche la quota di esportazione militare infatti cosa è successo da allora e questo è il dato decisivo da allora come è cambiata la composizione sociale di Israele grazie all'immigrazione dell'URSS grazie alla quota di istruzione balzata e così grazie al fatto che è balzata l'istruzione è balzata la quota di produzione militare il perno di tutto il successo di questa trasformazione sociale è passato all'esercito che è stato il vero protagonista di tutto il successo della trasformazione e allora cosa è successo da allora in poi ed è quello che caratterizza oggi Israele l'esercito funziona da primo selezionatore delle risorse l'unità scelta dell'esercito israeliano è l'unità cosiddetta 8200 ma compagni guardate in tutti gli eserciti del mondo noi intendiamo come unità scelta i corpi militari scelto cioè i corpi fisici tanto per intenderci da folgore i marines bene in Israele il corpo scelto militare non è un corpo scelto fisico non sono i marines non è la folgore non è il San Marco ma l'unità 8200 si occupa della cyber security si occupa della ricerca della digitale e cosa fa la cyber security entra nelle seconde classi dei licei cioè nei sedicenni svolge attività di selezione dei sedicenni con criteri propri seleziona elementi migliori e all'età di 18 anni cioè dopo l'esame di motorità li fa entrare nell'unità 8200 svolgono il servizio militare non mandandoli a casa ma le unità 8200 passano i tre anni del servizio militare che in Israele si fa prima dell'università conseguono la laura che equivale ingegneria elettronica senza fare il militare che in Israele non è costo di poco conto perché si può anche morire fatto quello che poi gli apre le porte a una grande carriera privata laura che vale anche per gli Stati Uniti equivalente ingegneria elettronica anche negli Stati Uniti quindi un biglietto da visita per una grande carriera anche nel privato quindi l'esercito è il primissimo selezionatore non solo per le proprie esigenze ma il primissimo selezionatore anche della società civile quindi il perno della società israeliana è l'esercito si diceva una volta si diceva una volta dal 48 dal nascere di Israele che Israele era un popolo con un esercito questo grazie alla storia particolare di Israele che è stato un susseguirsi di guerra ininterrotte sino al 72 e poi oltre oggi il paradigma è il contrario non è più un popolo con un esercito ma è un esercito con un popolo perché l'esercito è il perno della società civile è l'università è lo strumento attraverso il quale poi lo vedremo in pratica fra poco attraverso il quale l'esercito manovra direttamente la ricerca tecnologica la ricerca scientifica e manovra la selezione sociale attraverso questo quindi è una società di feroce selezione delle menti è una società darwiniana di selezione delle intelligenze è una società che ha sostituito la selezione di classe economica la selezione dell'intelligenza è una società quindi che ha un numero di cercatori procavite prima nel mondo 8,25 ogni milione di abitanti quasi il doppio degli Stati Uniti d'America è lo Stato che ha sopporto dell'innovazione è lo Stato che spende il doppio rispetto agli Stati Uniti quasi il doppio rispetto agli Stati Uniti il triplo rispetto all'Italia e lo Stato che si aggiunge a questi numeri si aggiunge alla ricerca militare che ha dei pesi straordinari quasi tre volte rispetto all'Italia i settori allora in maggior crescita non meraviglia che sono i cyber il digital il digital l'industria 4.0 il FUTEC il Fine Tech che è l'innovazione finanziaria gli investimenti nell'innovazione sono strettamente collegati al rapporto con gli USA ma attenzione non sono subordinati gli USA sono gli USA che sono subordinati perché per una ragione molto semplice se la Silicon Valley la mitica Silicon Valley è ritenuta per l'uomo comune per l'uomo di strada il tempio nell'industria digitale beh la Silicon Valley tanto celebrata ogni anno ripeto ogni anno va in Israele per fare shopping nell'industria digitale le start up israeliane quindi le società appena nate in Israele si mettono in bella mostra in bella vetrina non possono essere capitalizzate per ragioni semplici e finanziarie come quelle americane si mettono in bella mostra con le loro novità digitali vengono acquisite dalle corporece americane vengono capitalizzate e vengono portate nell'USA il percorso tipico di una start up israeliana è quello di nascere attorno all'innovazione militare è quella di mettersi in mostra è quella di essere acquistata quindi dalle corporation della Silicon Valley è quella di essere portate in USA capitalizzate e da lì lanciate nel mercato quindi è l'esercito che è il perno di tutto è il perno della ricerca tecnologica della ricerca scientifica quindi gli investimenti dell'esercito sono investimenti materiali in seconda battuta i primi investimenti dell'esercito sono investimenti intellettuali e sono indirizzati dove? e questo è il secondo punto fondamentale fondamentale senza questo non ci sarebbe spiegazione del perché Israele non è contestato a livello globale come dovrebbe essere contestato dove sono investiti dove sono vengono fatti gli investimenti intellettuali nell'esercito dall'esercito nel mercato innovativo italiano sono nel settore della controllo della security delle tecnologie informatiche nel settore cibernetico le tecnologie sviluppate rientrano nelle categorie dell'attenzione del double use cioè dell'uso sia civile che militare cioè strumenti che apparentemente appagiano pacifici ma che poi nascondono un doppio utilizzo sia scopo bellico sia scopo civile che l'ultima frontiera l'ultima per verità è già da vent'anni noi l'abbiamo detto tantissime volte nei nostri documenti antimilitaristi ma il vero valore aggiunto di Israele ha rappresentato le politiche di sicurezza di spionaggio di sorveglianza di polizia di intelligenza artificiale che ha potenziato finato grazie alla sperimentazione sul campo nell'occupazione dei territori palestinesi quindi Israele ha posto al centro proprio la sicurezza al centro della sua politica la sicurezza facendo il perno attorno al quale ruota tutto il sistema della ricerca universitaria del quale l'esercito però nel contempo il principale cliente ma anche il fornitore diretto tra le tecnologie sviluppate si trovano sì le armi ma quelle in grado di integrare funzioni di comando di controllo di comunicazione ma soprattutto di intelligenza artificiale di sorveglianza di sistemi attenzione qui degli ultimi sistemi d'arma cioè quelli costituiti dalla fusione di genetica e di nanotecnologie e soprattutto di robotica per la realizzazione di nano guerriglieri degli auto replicanti e della realizzazione dell'avanzata intelligenza artificiale ricordiamo che è stato testato per la prima volta qui a pratica di mare il sistema della fante della robotica del fante per tutti questi sistemi è il secondo esportatore mondiale dopo gli Stati Uniti però Israele e questo è il punto fondamentale e la sua forza di impatto politico è il primo esportatore al mondo prima degli Stati Uniti nel campo della sorveglianza della tecnologia visiva di riconoscimento facciale di tracciamento della raccolta di dati biometrici e quindi per questa ragione ha strettissime relazioni con i paesi che tradizionalmente sostenevano i palestinesi come l'India e la Cina e alcuni di essi figurano tra questi paesi i primi partner commerciali nei settori dei militari e della sicurezza se nei confronti del complesso militare industriale dei paesi del nord del mondo ha un rapporto quasi pari pari o quasi con quelli dell'America Latina e con i paesi arabi e musulmani e in genere del cosiddetto terzo mondo ha un rapporto basato esclusivamente sulla sua supremazia tecnologica e della ricerca scientifica e in questi paesi conduce corsi di formazione per chi? per le forze speciali per le forze di polizia per le agenzie di sicurezza per i servizi segreti e fornisce protezione a imprese private e pubbliche per queste ragioni quindi su 150 accordi accordi di sicurezza con 157 paesi e combatti i paesi facendo i partiti dell'onu sono 193 cioè adesso ci si rende conto come mai possono passare impunite a livello mondiale certi comportamenti perché se abbiamo accordi con 157 paesi su 193 paesi facendo parte dell'onu allora comprendiamo quanto è vasto gli interessi di collaborazione in Israele nel panorama internazionale per cui ha sabuto trasformare la sua capacità tecnologica scientifica di ricerca in peso politico e per questa ragione venendo all'argomento nostro specifico tutto questo giro di parole e per introdurci all'argomento di oggi se questo vale a livello internazionale naturalmente vale per l'Italia per queste ragioni qui quindi le università italiane hanno rapporti necessariamente rapporti con le accademi israeliane per cui ci sono rapporti di quadro di Ateneo convenzioni di cotutela di mobilità come Erasmus Overseas e Overseas tutti possono vantare collaborazioni con questa che viene denominata la grande democrazia del Medio Oriente l'unica realtà democratica come detto del Medio Oriente occhio accanto a queste collaborazioni che ora vediamo quali sono si è giunta questo dato non viene mai ma mai ma mai citato dagli ordini di informazione accanto alle collaborazioni dell'università che giustamente gli studenti denunciano ma non viene mai denunciato un fatto gravissimo a partire dal 2014 si aggiungono grazie anche al sostegno dell'Italia al catteggiamento dell'Italia tutti i progetti inseriti all'interno del colosso Horizon 2020 che cos'è il colosso Horizon 2020 chiamo colosso perché che cos'è è l'enorme programma di finanziamento alla ricerca e allo sviluppo dell'Unione Europea Israele non fa parte dell'Unione Europea ma come vedremo non ve lo sto a tagliare tutto perché come al solito ho detto per i dettagli c'è questo libricino ma necessiteremo i più importanti pur non appartenendo l'Unione Europea riceve finanziamenti sostanziosissimi dall'Unione Europea e l'Italia come paese dell'Unione Europea ha collaborato ha spinto politicamente per inserire Israele nell'ambito dei finanziamenti dell'Unione Europea è un fatto gravissimo non a caso quindi sono piovuti a pioggia e adesso li vedremo collaborazioni con tutte le università praticamente tutte le università italiane che hanno firmato collaborazioni con le università israeliane ma attenzione quanto ho detto prima firmare collaborazioni con le università israeliane significa firmare collaborazioni con l'esercito israeliano non è quando firmi una collaborazione con l'università israeliana e questo è il telegiornale che si ferma a dire che gli studenti contestano una collaborazione con l'università israeliana no l'università israeliana per quanto ho detto prima significa e poi lo dettaglieremo fra poco esercito israeliano questo è il problema quindi di collaborare significa collaborare direttamente con l'esercito israeliano questa collaborazione è una collaborazione che dura da 30 anni perché la banca dati curata congiuntamente dal ministero dell'istruzione dell'università italiana della ricerca e dalla conferenza dei rettori dell'università italiana elenca ben 130 progetti dell'università italiana sottoscritti negli ultimi 30 anni le aree di ricerca vengono privilegiate dai senati accademici nei settori tecno-scientifici informatici e ingegneristici alcuni dei quali con possibili diretti ricadute nel settore militare però il ministero israeliano della scienza tecnologia spazio finanzia direttamente la creazione di laboratori congiunti infatti c'è il laboratorio congiunto sulla biorobotica che punta a sviluppare dispositivi biologici e robot umanoidi coordinanti dell'università di Genova della Ben Gurrion University Ben Gurrion che è una delle più importanti poi vediamo che cosa fa la Ben Gurrion per quanto riguarda l'ambito della microtecnologia e dei neuroni elettronici l'istituto italiano della tecnologia di Genova collabora con l'Israele l'Italia ministra of science and technology Miamost è l'acronimo e hanno abbonato il primo cyber lab sulla sicurezza in collaborazione con la Tel Aviv University per la realizzazione di un laboratorio di sicurezza informatica il laboratorio ha sede presso il battimento di ingegneri Enzo Ferrari ora io potrei anche dire che sono circa una cinquantina le collaborazioni principali tra le varie università italiane israeliane cavarmela così vi chiedo un attimo di così di pazienza vado veloce perché mi mi pare significativo eh invece elincarle un attimo per dare la profondità comunque di queste collaborazioni l'Istituto Israele di Econologia accordi collaborazioni con l'Università degli Studi di Ferrara la Sapienza di Roma l'Università di Torino con Roma 3 col Politecnico di Milano col Politecnico di Torino l'Università di Tel Aviv collabora con l'Università degli Studi di Brescia con la Cafoscari di Venezia con l'Università di Catania col Politecnico di Milano l'Orientale di Napoli la Sapienza di Roma l'Università di Torino con l'Università di Genova l'Università di Napoli con l'Università degli Studi di Bologna di Ferrara con la Federico II di Napoli con l'Orientale di Napoli con la Cattolica di Milano con l'Università di Pato del Trento l'Università di Aifa con l'Istituto Trentino di Cultura l'Università di Parailana con l'Università di Trieste l'Università di Catania di Firenze di Udine col Piamonte Orientale con la Normali di Pisa con la Sapienza di Roma con la Cafosca di Venezia la Ben Gurriona progetti in corso con l'Università degli Studi di Bologna di Genova con l'Orientale di Napoli di Pavia col Politecnico delle Marche di Roma 3 di Torino di Trieste di Udine con l'Università di Genova per lo sviluppo degli dispositivi bionici e robot umanoidi l'Accademia Coggi di Tel Aviv accordi con l'Università di Modena e di Reggio Emilia la Ben Gurrion accordi come ho detto prima con l'Università di Modena e di Reggio la Interdiscipline di Center Ersili e invece accordi con l'Università degli Studi di Roma 3 e la Luiz Carli e la Libera e la Luiz Carli l'Università Internazionale di Studi Guido Carli e di Roma sono andato veloce ma mi sembrava giusto dare un panorama a dirlo uno per uno l'altra questione di collaborazione tra Italia e Israele che volutamente secondo me non viene citata non ho mai sentito un dibattito pubblico invece in questi giorni proprio in queste settimane in cui ha aperto proprio la questione di Gaza in cui c'entra molto Gaza e quindi secondo me è fatto proprio ad arte è una questione molto delicata che coinvolge l'Italia in modo molto diretto e molto delicato che è totalmente ignorata e che non può essere ignorata per il suo peso per il suo grande peso economico e geostrategico che credo che qui tra i presenti non so vorrei sentire se qualcuno ne ha conoscenza diretta il ruolo del gas qualcuno ne ha conoscenza tu tu ne sei a conoscenza quello che c'è davanti a casa eh qua uno due tre abbiamo anche discusso allora i giocimenti di gas e il nuovo ruolo energetico israeliano è una questione delicatissima e anche una lettura una lettura perché la realtà ha sempre diverse letture e anche una lettura dell'attuale conflitto di gas in Mediterraneo orientale negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più centrale grazie alla scoperta di rilevanti giocimenti di gas inoltre la crisi energetica guida dall'attuale conflitto ucraino ha messo in rilievo proprio queste nuove fonti che grazie alla loro posizione strategica ha assunto una rilevanza del tutto fondamentale questi giocimenti di gas di fronte a gas sono due uno si chiama Levetan e l'altro quello di Itamara sono due giocimenti gemelli siti più o meno a 20 km a nord di Gaza ha cambiato completamente il panorama energetico del Mediterraneo orientale ma anche la posizione strategica di Israele Israele è il paese povero di energia rispetto agli altri che è il Medio Oriente da paese nettamente importatore di energia è diventato paese si sta approntando per diventare il paese nettamente esportatore di energia ma c'è un'altra questione fondamentale che è quella del gas palestinese il 29 ottobre 2023 in piena guerra è stata firmata una convenzione con Eni e questo è il fatto che non viene detto con Eni l'inglese Dana Petroleum è una filiale della South Korean National Petroleum Company e l'israeliana Razio Petroleum queste sono le società coinvolte queste quattro società hanno ottenuto la licenza per lo sfruttamento di un giacimento di gas nel mare davanti a casa sono circa 20 chilometri all'interno di una zona marittima ripeto 20 chilometri a nord di Gaza che però è al 62% palestinese di pertinenza riconosciuta di pertinenza palestinese il giacimento non è il poco vonto estimato circa in 30 miliardi di metri cubi di gas che potrebbe coprire l'intero fabbisogno palestinese tuttavia Estrele blocca dal 2007 l'accesso a questo giacimento con un blocco navale le quattro società che si occupano non sto qui a citarle che si occupano dei diritti palestinesi hanno praticamente denunciato le quattro società che ho detto prima quindi compresieni ecco perché non siamo interessati le hanno diffidate dall'estrazione del gas le hanno diffidate perché perché la faccio breve per rendere chiara la questione perché nel 1982 è stata firmata una convenzione si chiama con un acronio unclos la faccio breve per capirla in cui è stata riconosciuta la palestina come stato sovrano e quindi come stato che può vantare i diritti su quella zona di mare Israele ha risposto a questo dicendo che non riconoscendo questa convenzione non riconosce la palestina e quindi non riconosce i confini marittimi di pertenenza di palestinesi quindi non riconosce adeni e alle altre quattro società i diritti di trivellare completamente le quote di gas le società che difendono i diritti dei palestinesi hanno invece notificato Dene e altre due compagnie che qualsiasi tentativo di esplorare e sfruttare le risorse naturali rivendicate dallo stato di palestina senza il suo consenso violerà inevitabilmente il diritto internazionale umanitario comprese leggi sull'occupazione e le hanno avvertite che la complicità in crimini di guerra come sacchegge un reato grave che espone gli autori delle corporation a responsabilità penale individuali importante sostituire la questione non è di poco conto perché la corte penale internazionale attualmente quindi non è una questione chiusa un'indagine aperta su crimini internazionali commesse nel territorio dello stato palestinese che in base a quello che ho detto prima quella convenzione è riconosciuto come territorio dei palestinesi quindi ha giurisdizione per indagare e perseguire qualsiasi individuo ritenuto responsabile nel crimine di guerra e del reato di saccheggio e quindi non può partecipare a nessuna gara ed effettuare esplorazioni di gas nelle aree marittime della Palestina in violazione del diritto internazionale e quindi compi reati in violazione di questo diritto e quindi può essere accusato del reato di saccheggio di lucrativo di risorse naturali quindi saremo a vedere come questa querela internazionale andrà a finire l'altro punto su cui è interessata la questione di tagli israeli su cui c'è il silenzio tombale di qualsiasi organo di informazione sono i rapporti tra Leonardo e israeli anche qui io dovrei soffermarmi per circa altri quarti d'ora per andare a dettagliare tutti i rapporti di vendita di armi ma soprattutto tutti i rapporti di collaborazione fattiva sul campo tra l'esercito italiano e l'esercito israeliano è vergognoso che gli organi di informazione non diano assolutamente notizia di tutte le campagne di addestramento militare fattivo concreto non di esercitazioni di esercitazioni di esercitazioni come dire di esercitazioni non viene la parola di esercitazioni sul non sul campo simulate non di giochi di guerra dei war games ma di esercitazioni vere e proprie che si svolgono quindi sia via terra sia via mare ormai da anni non ve le sto potrei elencarvele ma vi rimando sempre al vicino non ve le sto ad elencare e in tutte queste esercitazioni si possono ottenere solo grazie alla collaborazione tra Leonardo ed Israele si possono ottenere perché da anni c'è una collaborazione diretta di vendita di materiale militare tra Leonardo e Israele questa vendita è stata fatta grazie agli accordi che da anni ci sono tra le due società gli accordi più importanti sono quelli che sono stati fatti negli ultimi anni tra Leonardo sono due gli accordi tra Leonardo e l'innovation authority e Ramon praticamente come sempre per chiarire il concetto fondamentale gli accordi hanno come corpo come base sempre l'università cioè qualsiasi accordo che avviene tra i due paesi qualsiasi accordo ha come sempre contenitore l'università qualsiasi accordo che avviene con Israele che passa per che ha come fine la fornitura di materiali militari ha sempre come veicolo l'università che è il centro quindi l'università e l'esercito vi ho detto delle finanziamenti europee che è la parte più nascosta più vergognosamente nascosta della collaborazione tra Italia e Israele anche se qui parliamo di finanziamenti europei ma il caldiggiamento l'appoggio che l'Italia ha dato per i finanziamenti europei è stato veramente ampio vi cito solamente le cifre più importanti e anche cosa servono questi finanziamenti europei il finanziamento Horizon che è quel finanziamento che vi ho detto prima questi sono quelli più ridondanti di 33 milioni di euro e quello ottenuto dal Techno Institute che è la più grossa università pubblica di ricerca israeliana questo progetto qua viene utilizzato per lo sviluppo di tutti i progetti degli insediamenti israeliani insediamenti quelli che vengono fatti nei territori nei territori palestinesi esempio lo sviluppo del famoso bulldozer telecomandato che è stato usato nella demolizione delle case palestinesi è stato un progetto di Horizon finanziamento ricevuto dall'università di Tel Aviv è stata citata l'università di Tel Aviv ora l'università di Tel Aviv è l'università questo sono 33 milioni di euro che è l'università che è il ruolo più importante e determinante nel formare la dottrina di sicurezza di Israele l'università ha condotto pensate più di 50 progetti di ricerca congiunti con il settore militare israeliano altro finanziamento di Horizon di 29 9 milioni di euro quasi 30 è l'università ebraica di Gerusalemme che mantiene strettissimi legami con l'esercito israeliano e può essere considerato tutti gli effetti dall'accademica delle forze armate poiché tutti i collegi e le strutture di attestramento militare israeliane sono sotto gli auspici accademici e la responsabilità dell'università ebraica l'università forma i soldati sotto l'aspetto scientifico della tecnologia e ospita persino al suo interno una base militare e ha una base militare direttamente nel campus conclusione in che modo quindi le relazioni itali-israele hanno condizionato le rispettive politiche economiche e sociali cioè le vicende dei singoli paesi hanno dei punti di convergenza degli interessi comuni sono due i punti di convergenza sono due i piani da prendere in considerazione anche qui sono due i piani che non ci vengono mai spiegati dai mezzi di informazione sono moltissimi i talk show televisivi in momenti di analisi televisiva però le cose essenziali non sono mai dette ci sono due aspetti il primo aspetto riguarda ne avete sentito comunque parlare sono stati nominati qualche tempo fa e poi non più ripesi i famosi accordi di Abramo cioè voi sapete che una parte dei paesi del colfo si è avvicinata Israele ha riconosciuto Israele in particolare gli Emirati Arabi voi sapete geograficamente i paesi del colfo dove sono situati bene questo è importantissimo l'accordo di Abramo perché ha fatto uscire dall'isolamento Israele dell'isolamento con i paesi arabi se voi avete presente dove è Israele dove è la penisola arabica dove sono gli Emirati Arabi intrecciare le relazioni commerciali direttamente tra Israele e i paesi del colfo qua c'è l'oceano indiano significa geograficamente economicamente costruire un'autostrada che collega direttamente scusate l'Italia il Mediterraneo direttamente con la penisola arabica e sfociare direttamente dove? nell'oceano indiano questo cosa significa? tagliare di netto quella famosa via della seta cinese quindi vuol dire costituire un'autostrada l'alternativa a Pechino significa costituire un'altra via di sbocco commerciale ai prodotti italiani ecco perché l'attacco di Hamas ha tanto infastitito alcuni paesi occidentali perché porre che esiste tra i piedi dico io banalmente la questione palestinese che è sempre una questione che impedisce cioè è sempre un bastone fra le ruote e gli accordi di Abramo ci ricorda che esiste sempre una questione tra gli accordi di Abramo e la pacificazione con Israele che è la questione palestinese e se non esistesse sarebbe un accordo già concluso invece esiste sempre qualcosa di mezzo tra i piedi perché questa autostrada conduce direttamente all'oceano indiano quindi accordi di Abramo insieme al gas che ho detto prima ecco che è un'autostrada ideale sia energetica sia dai prodotti commerciali che lì può dire ciao ciao ti dice addio agli interessi cinesi ci farebbe veramente comodo è una una scorciatoia è un'altra via di uscita per i nostri prodotti commerciali quindi è una possibilità che noi abbiamo abbiamo in più però in questa via di transito nuova in questa via alternativa che ci può offrire l'accordo di Abramo quindi questa possibilità in più è una ragione per cui noi possiamo avere un interesse ad avere un accordo con Israele ma vi è un'altra ragione ben più contingente per cui Israele rappresenta per l'Italia un prototipo sociale e politico un modello di sviluppo per il quale si rende necessario profico coltivare ricercare relazioni nel mondo scientifico industriale delle applicazioni militari cioè un prototipo sociale al quale noi possiamo ispirarci possiamo ispirarci possiamo trarre insegnamento possiamo capire dove possiamo orientare il nostro modello di istruzione dove possiamo orientare il nostro modello militare dove possiamo orientare il nostro modello sociale dove possiamo ispirarci dove possiamo orientare la nostra istruzione e questo è il grosso problema dove possiamo orientare l'istruzione che deve essere intesa per il futuro come feroce selezione dei migliori come feroce selezione delle competenze come eccellenza delle competenze cioè un'istruzione che deve essere completamente servita alle esigenze tecnico-scientifiche della produzione l'esempio di una società della selezione della società neuroviparista noi stiamo in questi decenni stiamo percorrendo questa strada stiamo percorrendo la strada della selezione sociale sul modello israeliano stiamo cercando di coniugare le esigenze della produzione con la formazione e selezione scolastica stiamo ponendo l'esercito l'avevamo detto in tantissimi nostri documenti antimilitaristi coniugando la ricerca militare con la ricerca scientifica coniugando con la presenza dei militari nella scuola per cui mettendo l'apparato industriale militare al vertice delle esigenze delle eccellenze tecnico-scientifiche e non è quindi un caso che Leonardo i settori dell'aerospazio qua veniamo l'Italia quello navale sono in Italia in Europa e nel mondo ricordiamo che noi siamo delle eccellenze italiane nell'aerospazio e nel mondo delle eccellenze riconosciute a livello internazionale e quindi il successo di queste eccellenze è però di peso anche di una sempre più stretta collaborazione tra università o meglio tra ricerca universitaria e apparato industriale militare legasi Leonardo sulla cui evoluzione noi nei nostri documenti antimilitaristi siete anni che abbiamo prodotto e prodotto tanto e prodotto anche in modo lungimirante andiamoci a leggere e ne abbiamo diffuso tanto e l'abbiamo detto abbiamo avuto modo di soffermarci a lungo con le nostre analisi del corso di questi anni in altre parole abbiamo avuto modo di percorrere nelle nostre analisi il modello israeliano modello che ha fatto scuola ed è stato il precursore del modello israeliano di un foro sociale ed economico che vede al centro la selezione la competizione come elemento discriminante di un futuro di una futura forma sociale dei migliori dove per gli altri non c'è posto in questi termini con la collaborazione con Israele è profonda e va ben oltre il dovuto e formare l'appoggio politico di parte perché è una feroce competizione e selezione sociale finito grazie 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 e come mai invece nell'assemblea dell'ONU è stata votata una maggioranza di 143 paesi esclusi i soliti Stati Uniti il riconoscimento della Palestina è un conto che interrompe i propri affari e un altro poi scusa, le università che collaborano con le università individuali, le nostre rischiscono anche loro all'interno del progetto Omicron percepiscono anche loro dei finanziamenti non interessanti perché molti progetti Omicron sono di collaborazione tra università per dire se l'università di Tel Aviv percepisce 30 milioni di euro ma se collaborano con l'università di Bologna percepiscono loro fetta perché sono progetti comuni per forza che non molleranno mai sì sì, sono progetti comuni qui nei Bricinosi ho spiegato un po' più in dettaglio in realtà questo vicino qua per dire la tutta era il doppio poi abbiamo dovuto tagliarlo perché altrimenti andiamo fuori un libro quello che è incredibile abbiamo tagliato tutta la parte che riguardava le società dirlo lui per esempio per esempio A2A 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 si spiega io voglio dire devo ringraziarvi perché sei stato molto chiaro e individuando la questione delle aree e del gas come fondamentali rispetto a quello che sta succedendo l'iniziativa della via della seda la scelta di ritaglio è stata bastante chiara perché se non sbaglio il marzo del 2019 il primo governo Ponte l'ha firmato un accordo qua io con Siginting che era si di Maio come? di Maio si di Maio il governo Ponte poi adesso invece sono usciti quindi il governo Miloni sono usciti da questa hanno stracciato quell'accordo proprio come dire rispetto alla creazione di una via alternativa quindi è uno dei due obiettivi delle partner strategiche per creare una via alternativa alla via Cineco e per questo è che in questo momento oltre al discorso delle armi non si possa cumulare no no infatti d'accordo infatti il gas gli smelte il gas infatti l'avevamo accennato qui c'è qualcuno di panetteria l'ho visto prima no qua sono un'attività ah sono un'attività percato ah perché altrimenti è interessante perché quando due anni fa parlai a panetteria dell'ENI e del Mediterraneo accennare l'insmed qui anche l'autorità nazionale palestinese lo sottoscrisse ci fu un attimo di di perplessità non ricordo no ci fu un attimo di perplessità nell'assemblea in realtà si riferisce a questa cosa qua che è stato proprio l'inizio di una via alternativa allora era molto meno chiaro di oggi perché Levetan è venuto dopo è venuto dopo Alice Mad ma lo scopo era quello io comunque voglio dire la relazione di Daniele conferma ancora più l'importanza della lotta che stanno facendo gli studenti con l'occupazione delle fabbriche come un punto centrale chi nega questa roba qua qualcuno sta facendo e voglio dire sbaglia di grosso va sostenuta a tutti gli effetti perché in questo momento qua anche materialismo ha l'opposizione più forte verso il governo Meloni no? perché non va più solo a manifestazione di protesta ma va a colpire in un punto molto importante sono contento invece che ha tirato fuori la questione di gas che ti dico che l'avrei fatta io in questa occasione perché per il silenzio che c'è perché noi abbiamo appena accennato l'altro giorno in riunione ma erano tante cose l'abbiamo anche accennato e dovevamo approfondirlo perché su questa cosa siamo chiamati a portare avanti una battaglia perché una contraddizione grossa nel senso che proprio nel mare davanti a Gaza mi risultava che il 60% era stato attribuito alla Palestina sì 22% allora ho capito male e che c'erano già stati degli accordi cioè in primo momento Israele ha scoraggiato tutte le aziende perché ancora i rapporti di forza non erano ancora chiari ha scoraggiato tutte le aziende che erano interessate a fare questa operazione di estrazione però già a marzo dell'anno scorso fa un incontro con la melone e ci sono già delle promesse ci sono delle promesse infatti poi è successo che è stata scavalcata anche una gara normale come si fa e guarda caso e guarda caso succede il 7 ottobre quello che sappiamo tutti e il 29 ottobre come dei saccalli fanno l'accordo tra melone tra leni scusa leni però vuol dire melone e Israele fanno l'accordo e penso che quindi questa cosa qua sia un fatto anche ulteriormente grave su cui dovremmo continuare a fare quel discorso dell'eni ma questa volta è stata proprio all'interno di una battaglia molto più significativa che però mi ha colpito che tutto questo gran vociare sulla questione e nei mezzi di informazione è stato totalmente eh no ma interessi cioè se la collaborazione cioè se la collaborazione tra l'Italia e Israele è venuta fuori a livello università per le contestazioni degli studenti eccetera beh questa qua è più diretta di questa non c'è è totalmente 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 ignorata ma totalmente eh dovremmo fare in modo di imporre la informazione eppure la più diretta la più la più più importante la più interessata altro che piano Mattei eh esatto eh è stata totalmente misconosciuta quindi è incredibile totalmente misconosciuta sconosciuta ho che ho che ho che ho che ho